Se siete tra quelli che all'inizio del nuovo anno controllano già il calendario di quello successivo per scoprire quanti ponti e weekend lunghi ci saranno, potete stare tranquilli. Il 2016 sarà a voi molto favorevole. Si parte bene a gennaio, prendendo le ferie il 7 e l'8 si lavorerà solo due giorni. L'Epifania si festeggia infatti di mercoledì. Lunedì 25 aprile di riposo e quindi weekend lungo grazie alla festa della liberazione. Ma ecco la festa della Repubblica che arriva alla parte migliore. Dal momento che il 2 è giovedì, se si chiede il venerdì di ferie, si potranno ottenere ben 4 giorni di riposo. A Ferragosso il weekend si allungherà soltanto di un giorno, dato che renderà festivo il lunedì. E cosa accadrà con l'arrivo dell'autunno? A novembre, prendendo il 2, 3, 4 di ferie e unendoli alle festività di ogni santi, si potrebbero ottenere ben 6 giorni di vacanza. Per finire, buone opportunità di facile riposo anche nel periodo natalizio. Chiedendo le ferie il venerdì 9, si potrà stare a casa per ben 4 giorni, sfruttando l'immacolata che cadrà di giovedì. Santo Stefano si festeggerà invece di lunedì. Ricapitolando, chi potrà permetterselo con 7 giorni di ferie riuscirà a stare a casa da lavoro per circa un mese. E pensare che lo storico scrittore dell'800 Beers diceva che l'anno non è altro che una serie di 365 delusioni. Consoliamoci, pensando che nel 2016 ce ne sarà sicuramente qualche decina in meno. Grazie a tutti.